Andate nello spazio Bandinelli Poi rivediamo se è stato lo stesso Vedi, ma questo è Marchizzo, vedi Bairami Questa è la prima giocata importante Bairami che accende da dentro Bairami E rimane lì a sostegno Si gira, calci in porta, poi una serie di ripali Comunisce Mancuso che va a timbrare Però tutta l'azione fatta bene A cui vota tanti giocatori, guarda, ce ne sono 4 Dell'epoli di tornare nel rigore Questa deviazione si coordina Evita il possibile intervento La parte di Rabiot Lo taglia di fatto fuori